Con il primo consiglio provinciale è cominciata ufficialmente l'era di Camillo D'Angelo alla guida della provincia di Teramo. Il primo atto del neopresidente è stato quello di conferire le nuove deleghe. A Luca Lattanzi va l'edilizia scolastica, a Luca Pilotti assegnata a viabilità e rapporti con la città capoluogo, a Mauro Scarpantonio l'urbanistica, bilancio politiche comunitarie, a Ernesto Gliezzi l'area marina protetta a Torre del Cerrano e pianificazione piste ciclabili, A Giovanni Luzzi, PNRR e Cultura e infine al sindaco di Giulianova Ivan Costantini è stata affidata confermando le voci di queste ultime settimane la vicepresidenza e il controllo di tutti i delegati. Presentiamo le nuove deleghe dando centralità a Teramo con la delega madre e quella della viabilità per il raccordo. Abbiamo dato naturalmente la vicepresidenza al sindaco di Giulianova Ivan Costantini e coinvolto soprattutto la parte dei consiglieri della Casa dei Comuni. Naturalmente queste deleghe non sono statiche ma saranno allargate in una prospettiva di collaborazione futura a tutto il Consiglio provinciale che dovrà lavorare soprattutto per il bene e l'interesse del territorio. C'è bisogno del contributo di tutti i consiglieri, di tutti e 12 consiglieri perché il territorio ha bisogno di risposte immediate per soddisfare le esigenze e avere una visione e una prospettiva futura di rilancio della provincia. L'imperativo è cambiare passo, dare velocità, dare prontezza, dare risposte immediate e vicinanza al territorio quindi avvicinare la provincia e le amministrazioni comunali. Come ribadito dal presidente D'Angelo, la nuova squadra è una giunta allargata che non tiene conto dei partiti e neppure dei consiglieri che hanno votato per Vagnoni o per Piccioni. Non solo chi mi ha sostenuto perché in realtà magari molti dei delegati probabilmente non mi hanno sostenuto dico probabilmente perché non so in realtà poi l'espressione di voto qual è stata ma suppongo che la maggior parte dei consiglieri che hanno ricevuto le deleghe non hanno dato il sostegno a me ma comunque apprezzo il lavoro che hanno fatto durante la campagna elettorale quindi hanno sostenuto candidati come me in questa competizione provinciale ma guardiamo avanti e non sicuramente dietro quindi loro dovranno essere vicini alla presidenza, vicini al Consiglio provinciale perché l'imperativo è essere vicini alle amministrazioni e ai cittadini.